In Italia è un posto di classe, fondamentalmente un posto di classe Posso andare... No, se ti giri, guarda qua Provo molta stima in guarda, sono assolutamente orgoglioso di suonare qua con lei Un ristorantino, cioè un bel ristorantone, però insomma... Ho mangiato bene? Ho mangiato abbastanza bene, ho mangiato tre arancine Poi a me piace suonare il piede, ho proprio sentito il cibo qua che poi non c'è faticato ad alzarmi e camminare Quando suono, che ho mangiato tantissimo, suono la dica Ma sei in chiesa? In chiesa? Sì, sì Eh, da Dio Ah Qua già tutt'era il cibo È un ripilante Ah, comunque la Roberta mi dà dello spacciatore texano, non so Scusa, devo fare una carellata su tutto il corpo? No, per favore Mi dà dello spacciatore la Roberta No, non avvicinarti E' dietro, il contrabbasso va dietro C'è gli stivali Però alla Roberta piace Eh, allora, l'importante è quello Esatto Chiudo? Chiudo Chiudo Bookina Chiudo Chi계000 Chiudi Chiudo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti